Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video del ciclista anonimo. Siamo qui per giocare la nona tappa del Tour de France con la Quick Step su PlayStation 4. Nell'ultima tappa abbiamo vinto con Alaphilippe davanti a Simon Yates e Vincenzo Nibali. Abbiamo riconquistato la maglia gialla. Quindi siamo in maglia gialla con Julien Alaphilippe davanti a Tijbenot con un vantaggio di 38 secondi. In terza posizione a 1 minuto e 16 c'è Ricci Porte. Andiamo a giocare la nona tappa. Ma una tappa che parte da Saint-Étienne arriva a Blue. Tappa collinare che potrebbe essere anche questa adatta alle caratteristiche di Alaphilippe. Tra i favoriti della tappa abbiamo appunto il nostro Julien Alaphilippe, Alejandro Valverde della Movistar e Adam Yates della Mitchelton Scott. Ma anche il fratello Simon potrebbe dire la sua. Vi ricordo che questi video sono nati, diciamo così, per caso. Non vuole essere assolutamente un canale di gaming. Vorremmo parlare di ciclismo, come potete vedere sulla pagina, il ciclista anonimo sul blog. Però in questo momento dove vi assolutamente assenso di qualsiasi gara in tutto il mondo, abbiamo pensato di improvvisarci le gamer e fare questi gameplay su Tour de France. Diciamo per colmare un po' l'astinenza dalle gare di ciclismo. Perfetto, la tappa è iniziata. Ordiniamo a Lampert di proteggere Alaphilippe. Velocizziamo il tempo e andiamo avanti. Allora, è uscita una fuga con diversi corridori e tra questi corridori c'è Tish Benot che viene lasciato andare perché comunque anche se è secondo in classifica poi sicuramente nelle tappe di montagna si staccherà. Però siccome noi ci teniamo a questa maglia gialla e vorremmo tenerle il più possibile ordiniamo ai nostri uomini di chiudere la fuga che ha preso anche un vantaggio considerevole. Sono 9 più 4 all'inseguimento, diventeranno 13. Quindi ordiniamo a Junkers di proteggere Alaphilippe e mandiamo a tirare assolutissimamente Lampert 90%, Massa 90%, anzi magari iniziamo con l'80% e anche Philippe Gilbert e cerchiamo assolutamente di tenere lì la fuga. Come vedete in fuga ci sono 13 corridori tra cui Benot che potrebbe pre-rubarci non è un bel termine potrebbe, diciamo, sfilarci la maglia gialla di dosso. Quindi mettiamo a lavorare la nostra squadra per cercare di tenere la fuga chiusa è una salita piuttosto dura solo 3,4 km ma con una pendenza media del 10.8 salita davvero parecchio dura tanto che Lampert e Ricezze sono già leggermente in difficoltà abbiamo già fatto un po' di selezione perché sono staccati dai corridori iniziamo già un po' a valimentarci con Giuliana e la Philippe nonostante stiamo tirando comunque la fuga è a 3 minuti e 25 anche perché ci sono i corridori buoni nella fuga c'è Van Avermaet c'è Valgren c'è Tim Valens William Martin Ilnur Zakarin Tony Martin è una fuga piuttosto pericolosa è una fuga piuttosto pericolosa quindi dovremmo cercare assolutamente di chiuderla il nostro Ricezze si è staccato abbiamo già fatto parecchia selezione abbiamo messo abbastanza in croce i corridori che abbiamo tirato perché comunque siamo un giorno siamo alla tappa prima del giorno di pausa quindi i corridori sono piuttosto stanchi perché sono nove tappe di fila che corrono dunque ordiniamo a Stieber di andare davanti e tirare al 90% visto che ne ha insieme a Gilbert come detto già negli episodi precedenti sono queste le tappe con cui dobbiamo attaccare con la LaFlip ovvero tappe di media difficoltà colinari dunque la fuga è sotto i due minuti però è composta ancora da 11 corridori anche dei Ghent ci sono ottimi corridori nella fuga forse dovevamo chiuderla subito non dovevamo lasciarla andare via comunque facciamo risparmiare un po' Gilbert ordiniamo a Stieber di no il gel blu l'ha già preso ordiniamo a Mass di proteggere Alaphilippe e andiamo a tirare Bob Junkers stiamo praticamente sacrificando tutta la squadra per tenere chiusa la fuga caliamo un po' il ritmo andiamo all'ottanta sprint intermedio comunque non ha senso neanche varlo perché ci sono pochi punti in palio dato che i punti nello sprint intermedio vengono assegnati ai primi 15 11 sono in fuga e quegli 11 prenderanno i punti importanti con Viviani abbiamo un vantaggio tale che comunque possiamo fare a meno di di sprintare per quei pochi punticini facciamo riposare un po' gli altri ordiniamo solo a Jungels di tirare a 90 che è l'uomo dei nostri che ha più energia abbiamo fatto già la selezione perché in gruppo sono rimasti in 110 si sono già staccati una quarantina di corritori tra cui il nostro ricezze speriamo non finisca fuori tempo massimo perché in queste tappe comunque c'è la possibilità che possa accadere ma comunque il nostro obiettivo è quello di tenere la maglia gialla comunque la Stana e la Ineos ci vengono ad aiutare nel chiudere la fuga il che è una ottima notizia potremmo venire al 100% in questa discesa c'è anche chi sprinta ma non ha senso sprintare si è staccato ma stai ente dalla fuga molto strano comunque ricezi in un gruppetto di 30 corridori quindi dovrebbe con loro arrivare tranquillamente nel tempo massimo mentre ci sono altri corridori che sono rimasti soli beh questi tipi di corridori potrebbero rischiare stiamo sfruttando tutta la squadra stiamo completamente sacrificando era abbastanza prevedibile muoversi così con la Philips ho capito ordiniamo ai Jungels di alimentarsi noi con la Philips stiamo abbastanza bene i Viani sta resistendo se resistesse potrebbe poi rivelarsi utile in pianura potrebbe anche darci una mano vediamo sarebbe ottimo se riuscisse a scolinare anche se la vedo piuttosto difficile Viviani è ancora qui nonostante il gruppo sono rimasti solo 67 corridori potrebbe davvero darci una grossa mano Viviani anche perché davanti la fuga è esplosa attacchi e controattacchi e sembra che Beno sia crollato davanti sono rimasti in tre Valenz Valgren e Banatormat che sono fuori classifica come vedete sono chi ha 22 minuti chi ha 28 Zacharin che è anche lui fuori classifica e Beno è qui vicino al gruppo perché a 2 minuti 8 dai 3 che sono in testa alla corsa quindi questa è un'ottima notizia per noi vediamo se Viviani riesce a resistere sarebbe perfetto adesso c'è una discesina in discesa insieme a Gilbert potrebbe tirare per andare a chiudere sulla fuga Benot è stato ripreso davanti sono rimasti in tre sono Valgren Valenz e Banatormat tre ottimi corridori e Zacharin che li insegue ma a 1 minuto e 42 Zacharin è fuori del gioco Jungels lo stiamo spremendo come un limone ma è questo quello che deve fare viene ripreso Zacharin lasciamo alimentare Viviani Stibar e Jungels e anche Gilbert perché è arrivato il nuovo rifornimento e adesso ordiniamo a tutti e tre in discesa di andare al 100% anzi tutti e quattro tutta la squadra a tirare eccetto Jungels che ha tirato abbastanza e lo mettiamo in protezione del nostro Giuliano alla filipo Jungels lo useremo nella nella salita finale sì comunque l'icezia non dovrebbe avere problemi di tempo massimo anche Gilbert deve tirare ovviamente tutti tranne Jungels che ci servirà nell'ultima salita dove proveremo di nuovo a fare la differenza con Alaphilippe ecco che anche la Stana comunque sta collaborando con i nostri corridori fuga a 1.28 sempre con i tre davanti a questo punto ordiniamo a Viviani di seguire senza affaticarsi lo stesso anche a Stibar mentre Gilbert lo facciamo ancora tirare perché ancora ne ha salita durissima attenzione perché partono già gli scatti parte Daniel Martin parte Daniel Martin e noi comunque andiamo dietro perché andiamo dietro perché è quello che vogliamo attacco incredibile di Daniel Martin lui ce l'ha queste sparate abbiamo quasi finito l'energia rossa per scattare quindi dobbiamo prendere un po' il gel anche Bardet attenzione perché Martino sta facendo un'ottima azione la salita è dura ma solo di 3 km e 7 dunque si tratta di quelle salite adatte ad alla Philippe e comunque tiriamo perché abbiamo il nostro interesse anche se la Stana è lì a fare buona guardia l'attacco è stato religioso vediamo se il nostro Bob Young se no ma comunque Young è già abbastanza in difficoltà e riparte Daniel Martin incredibile riparte Martin queste situazioni comunque stanno vantaggiando i fugitivi perché naturalmente la fuga arriva ci eravamo avvicinati ma poi c'è stato un rallentamento non ce la siamo sentita di proseguire vediamo se attacchiamo allo scollinamento magari la discesa è tecnica infatti sembrerebbe così sbagliamo la curva i tre fuggitivi erano molto forti ne avevano si sono gestiti e quindi diventava difficile riprenderli nonostante abbiamo spremuto tutta la squadra però vediamo se comunque riusciamo a guadagnare qualcosa in classifica sugli altri anche se non vinciamo la tappa discesa molto tecnica strada stretta questo pezzo in salita non lo ricordavo comunque nella discesa a quanto pare abbiamo fatto il vuoto potremmo dire a Jungels di disturbare chi tira stessa cosa anche a Gilbert perché noi siamo a 1.34 perché noi siamo a 1.34 Vellens che in testa ha staccato Valgren e Van Averman a 2.03 quindi a una trentina di secondi da noi c'è Dan Martin Andrej Amador è a 2.26 quindi a quasi un minuto a 54 secondi da noi c'è il grosso del gruppo anche se con 46 corridori quindi noi dovremmo tirare di rito arrivato a questo punto e vedere se riusciamo ad arrivare a traguardo lì davanti ci è perso di aver intervisto Van Averman ecco il gruppo però il gruppo ci tiene lì vediamo magari se ci raggiunge Martin possiamo trovare una collaborazione perché adesso se non sbaglio la strada dovrebbe essere in discesa attenzione perché Martin tira e noi potremmo sfruttare il lavoro di Dan Martin a questo punto attenzione Dan Martin sta tirando questa è un'ottima situazione che dovremmo cercare di approfittarne magari di dargli anche i cambi dobbiamo girare diritto per guadagnare qualche seconda in classifica assolutamente Martin tira ragazzi Daniel Martin tira attenzione però ci vengono a richiudere attaccano attenzione però perché abbiamo fatto comunque il vuoto dietro ma Navermatt non verrà ripreso purtroppo sarebbe stato buono riprenderlo per i tre secondi di buono Valverde sta letteralmente attaccando noi possiamo sfruttare il suo lavoro adesso chiede collaborazione che la trova in Kiatowski parte lungo molle ma Dan Martin e noi proviamo a fare la volata a vedere se guadagniamo qualche secondo e con Julian Alaphilipp purtroppo si sprinta per il quarto posto prendiamo il quarto posto con Alaphilipp ma non dovremmo aver guadagnato granché purtroppo ci sono venuti a riprendere tanto lavoro della squadra per niente ma purtroppo non può andare sempre bene ecco che arrivano alcuni corridori che si sono staccati poi cerchiamo di vedere la classifica questa è la volata finale con Alaphilipp partito lungo molle ma dovrebbero essere arrivati tutti con lo stesso tempo questi corridori credo presumo tappa che viene vinta da team balance della lotto sudam noi manteniamo la maglia gialla con Alaphilipp maglia verde che è sempre del nostro Ilia Viviani la città scalatoria la maglia qua e qui Roman è la maglia bianca questa di Tish da che la conserva chissà si è staccato dopo che è stato ripreso adesso vediamo la classifica della tappa e se ci sono stati comunque di cambiare lì allora vince la tappa team balance secondo valgren van aver peccato perché van aver matterà vicino poi quinto sagan wow ha resistito del martin che toski è molla ma con lo stesso tempo ha una giornata guadagniamo però 7 secondi su semo yates 7 sul valverde ed è buono ovviamente io mi riferisco i corridori che sono in classifica quando parlo di guadagno 7 secondi su tibopino 7 secondi su bernal e nairo quintana 7 secondi anche su nibali fullsang ricipork sì tutti 1 16 gli altri abbiamo guadagnato solo qualche secondo vediamo se ci sono stati dei cambiamenti in classifica generale sì benò ha perso qualche secondo quindi siamo sempre in magliagella con la clip con 45 secondi di vantaggio su benò benò che però ovviamente non penso fare a classifica 1,23 su riciport maglia verde sempre avanti con elievigliani secondi con alapilip quindi prima e secondi bene questo video è terminato se lo trovate interessante potete mettere un mi piace e seguire la pagina il ciclista anonimo ci vediamo nel prossimo video per continuare questo tour de france ciao